In occasione della mia visita ormai prossima in Italia e nello stesso tempo in occasione del mese santo di Ramadan della società tunisina e dei musulmani, volevo rivolgermi con un messaggio, un messaggio d'amicizia, di fraternità all'amico popolo italiano, a tutto il popolo italiano e anche a tutti i credenti italiani, per dire che la Tunisia e il partito Nahda coltivano la speranza di costruire un'amicizia profonda, relazioni di buon vicinato che si basano sul principio e voglio sottolinearlo, che noi vogliamo costruire un'area mediterranea a tasso zero di litigi, di problemi, di guerra e di conflitti. È questa la nostra politica di Nahda che vorrei trasmettere attraverso questo messaggio. Un messaggio, come ho detto, di fraternità, di rispetto reciproco, di speranza che i rapporti fra di noi diventino sempre più stretti e che possano svilupparsi in tutti i settori, quello sociale, politico e anche culturale. La cultura è infatti il fondamento della politica ed è anche il fondamento dell'economia. Cultura nel senso che noi condividiamo una religione, la religione, una religione comune, quella dei credenti, della loro fede. Questo è l'elemento positivo che noi vogliamo sviluppare con i nostri fratelli cattolici, cristiani in generale e con il popolo italiano. Un'area dunque dove non avranno spazio conflitti, non ci sarà spazio per la guerra, non ci saranno discordanze sui problemi sociali, sul problema per esempio dei clandestini, dei lavoratori clandestini, sul problema dei conflitti generazionali, dei conflitti religiosi. Per noi ciò che è che ci unisce è più importante di ciò che ci divide. Noi speriamo in questa occasione di visita in Italia di sviluppare questi aspetti, queste problematiche e spero di trovare presso i nostri amici italiani, cosa della quale sono certo, tutta la disponibilità a progredire sempre più nelle relazioni di fraternità e di unione.